L'Emilia è giallo-blu, vamos! E l'Emilia è giallo-blu, che cuore! Che cuore ragazzi! All'altra straordinaria vittoria nel derby emiliano contro il Sassuolo, 2-1, ci voleva, ci voleva, siamo a meno 20, metà traguardo raggiunto, campionata è ancora lunghissimo, aspettiamo, non molliamo, rimaniamo sempre lì, che è dura, però va bene, va bene, altra grande vittoria, subito due gol che hanno messo la strada in salita, Gervinio ha sbloccato il risultato subito e poi dopo il Capitanone, Capitanone Bruno Alves, bel gol di rapina da Bombervero, poi ha rischiato un attimo perché il rigore poteva riaprire il match col VAR, con l'aiuto del VAR che ha confermato il rigore, poi un altro VAR per bastoni, presunto fallo di mano in aria, uno stop strano, però poi va bene, ovviamente è stato dato solo un rigore, Babacar, battuta, segnato, che lotta, che lotta, sugli spalti una tension, una tension dei litigi, è stata dura, anche sugli spalti dei bei conflitti tra tifosi, poi è un derby comunque molto sentito in Emilia, quindi andiamo così, andiamo così, adesso bisogna tenere sempre, sempre bene la situazione in pugno, mai mollare, piedi a terra, adesso un'altra sfida, a San Siro, tutti a San Siro, domenica, 2 dicembre, 12.30 dovrebbe giocarsi ancora, è così, spezzatino, spezzatino, e noi giochiamo a pranzo, però vabbè, se vinciamo sempre così va bene, sarà una bella sfida, io sono fiducioso, e dico la verità, non lo so, non lo so, ho buone sensazioni, poi mi trastullo un attimo perché si sa mai, comunque potremmo far bene, potremmo far bene, San Siro ci è già andata bene con l'Inter, eravamo anche un'altra squadra, adesso c'è da dire che anche la Rosa è quasi al completo, finalmente, è stata una stagione un po' dura, per recuperare tutti, però ce l'abbiamo fatta, dai, e siamo lì, e siamo lì, zona Europa, ci siamo, però a parte gli scherzi, teniamo bene, tranquilli, perché bisogna pensare a salvarsi, altri 20 punti, e poi dopo ci divertiamo, magari. Allora, oltre al grande capitanone, io farei complimenti, che è un giocatore che se ne parla poco, se ne parla poco, ma sempre veramente, veramente, tanta grinta e tanto coraggio, sopperisce con la quantità, magari la qualità, che Iacoponi ci regala, grande Iacoponi, è riuscito a fermare Boateng, Berardi, ha fatto una bella partita, ha fatto una grande partita, meritantissimi gli applausi, non solo per lui, per tutto il gruppo, per tutto il gruppo, però Iacoponi, devo dire, nota positiva di questa Serie A, con lui, vabbè, il grande Nino Barillà, che ormai sono anche stanco a ripetermi, me lo metterei lì a casa, a Baggiù, a fianco al Comodino, il grande Nino, un altro grande partitone, Scozzarella, Scozzarella sta dimostrando che in Serie A ci può stare, ai piedi li conoscevamo già noi di Parma, lo conosciamo da un paio d'anni, quindi, però vediamo che anche in Serie A sta facendo bene, e ha sostituito Leo Stulac, però bisogna capire se Leo Stulac è stato convocato in nazionale, quindi magari anche per quello, non ha giocato, oppure perché magari D'Aversa effettivamente preferiva la qualità più la quantità in questo caso, dipende poi dalle partite. Vedremo, adesso sono curioso, col proseguire del campionato, perché non sarà facile adesso fare delle scelte, comunque si stanno comportando tutti bene, poi quando il gruppo unito, secondo me, a questo punto chi gioca, gioca, non può fare altro che bene, perché se il gruppo sta bene, tutti poi ne prendono atto. Allora, 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 devo fare un salutone al direttore Luca Magno dello Zoccolo Duro, ci vediamo a San Siro, pay attention Luca, pay attention, partita interessantissima, tu hai detto che abbiamo vinto, quindi verremo lì belli sereni, possiamo anche perdere, è vero? Il problema è che noi non abbiamo nulla da perdere, e voi? Pay attention, zoccolo duro.